... magnifico magnifico ben nato mangiafuoco sempre per stare in tema avete capito dove siamo sì o no allora intanto siamo in compagnia di un nostro pilastro il mitico max tanti di voi mi hanno chiesto in diretta max dov'è dov'è da qua e max lavora anche c'è la squadra in giro guardate qua anche i capelli guardate infatti ormai nuova versione siamo a meno 15 kg ora mi deve dare la dieta perché io devo perderle pure che non mi entra più niente max stai seguendo questo lavoro dove siamo qua spieghiamo intanto di cosa stiamo parlando guardate che sono meravigliose cosa sono ma che bello ora si che si possono guardare sindaco buongiorno intanto a tutti queste sono le fontane di via cardines angolo via primo settembre le mitiche quattro fontane hanno un'origine intorno al 1660 la prima venne realizzata nel 1660 era da 1670 che non funzionavano poi la seconda è stata realizzata intorno al 1717 e poi le altre due perché erano quattro intorno al 1750 una smontata da superstite oltre a queste due è al museo regionale come vedi sindaco mancano diversi pezzi queste hanno subito i bombardamenti il terremoto del 1908 quindi hanno avuto una loro storia abbiamo fatto su queste fontane interventi non invasivi significa che sono stati fatti gli interventi soltanto di pulizia e poi vedere lo stato in cui si trovavano alcuni punti dove appunto i restauratori lasciano dei segnali non si capiva prima che ci voleva contare vedi tipo così se questo era lo stato in cui era l'altra dell'altra addirittura era pure peggio cos'è questo che minchia è sta cosa questo è un obbrobrio in cui l'abbiamo già fatto richiesta per la rimozione stiamo attendendo che l'enel ci tolga il contatore che c'è all'interno dico ma si può ora al di là di questo ma si può permettere all'enel qualsiasi guardate nel mezzo qui e qui più centro storico di questo più centro storico di questo obiettivamente guardate qui cioè piazzare questo proprio qui non lo so che senso ha al di là di tutto questo cortesia deve sparire ora che abbiamo fatto tutto bene e allora acceleriamo perché la prossima volta lo sai che faccio prendo una mazza vengo io lo smonto pensate che ci voglia perché che prendo la corrente e vabbè pazienza vabbè quindi questo o lo tolgono o lo tolgo io max due settimane di tempo non di più allora abbiamo i colleghi di signori servizi buongiorno ecco qua la differenza della pulizia di com'era prima questo era il com'era prima era prima vedete di questo colore era tutto infatti non si distingue io non si vedeva che c'erano sti puntati sì però vedete questo era prima e ci siamo ora è una meraviglia no però manca l'acqua l'acqua qui signora è molto improbabile che zampigli perché queste fontane quando sono state collocate non hanno previsto addirittura lo scarico e quindi proprio io parlando con i responsabili della ditta isa restauri gli ho fatto una proposta perché bene o male all'interno i condotti ci sono tutti per forza quindi creando un sistema di circuito continuo con acqua continua esatto così evitando gli scarichi minutoli voglio l'acqua e vediamo di riuscirci minutoli non vediamo queste fontane devono zampillare anche queste due va bene voi che dite immaginate qua passare e sentire ah hai capito max allora tutti quanti stanno dicendo forza max forza max o arriva l'acqua o te ne può andare va bene qua lo stanno dicendo ecco benissimo allora max ha preso st impegno max tra quanto dobbiamo fare le pratiche diamogli il tempo le due tre mesetti vediamo entro l'anno e io mi piace stringergli max c'è la sostanza che pensate che quindi io stringo e quindi max entro l'anno entro l'anno ok mi stanno chiedendo della fontanorione piazza duomo anche perché quella per me il simbolo del completamento di tutte le azioni che noi abbiamo già attivato oltre 150 fontane sparse per tutta la città e villaggia questo voglio dire l'azione che ha portato avanti max con la mamma col dipartimento è complessiva di riqualificazione di restauro di valorizzazione ma di riattivazione non c'era una fontana a messina quando mi sono inserito una sia di queste monumentali sia di quelle normali che zampillasse acqua una che sia una e ancora ne abbiamo per carità strada da fare però intanto le stiamo facendo come vedete quindi ora è il turno di quelle monumentali la orione per ora siamo fermi perché allora sulla orione sono state fatte le prime indagini per quanto riguardava la struttura adesso si sta attendendo l'opificio di firenze perché ci sono da fare interventi particolari e soltanto particolari aziende e strutture possono realizzare c'è stato il covide c'è stato il rallentamento però pare che l'architetto cacopardo abbia già preso contatti con l'opificio per riprendere la missione di questi operai che devono venire giovani a avviare gli interventi noi avevamo preso l'impegno già entro dicembre scorso di completarla purtroppo non avevamo messo in conto il covid questo questo sia chiaro però anche lì ormai stiamo andando avanti ci sono i soldi perché diventa il simbolo obiettivamente di tutte le nostre fontane della città anche l'acqua è simbolo di vita cosa dobbiamo aggiungere altro una tentazione c'è una gran spazzata sta porcheria porca puttana guarda ma non ha spallata guarda gliela deve gli dici che gli torna una spallata io me ne fotto guardate c'è la corrente non sappiamo se è alimentato mettiamo un dito scusa no proviamo e vediamo comunque eventualmente assistere in diretta io faccio una cosa la tecnica sarebbe parto da qui scusa una volta facevo karate pure io lo so che non ci credete ero cintura nera non era scusa verde aspirava a cintura nera mi sono fermata a verde mi metto così da qua vedete e faccio così poi finisce il rischio che rimango con le gambe divaricate comunque vabbè per concludere la mattinata vi lascio liberi perché abbiamo un po di impegni siamo felici che viene max facciamoci una passeggiatina vieni mentre vediamo i nostri colleghi di messina servizi che lavorano siamo felici che non solo i gretini cambiano idea per quanto riguarda signora li stiamo restaurando tutte grazie grazie stiamo tentando ora anche di postare l'acqua guardi lo sto lo stavo staccando ora la signora mi ricorda che dopo 30 anni finalmente le fontane sono intanto riqualificate e vabbè queste sono testimonianze belle della anche e prova lampante di quello che noi stiamo facendo stavo dicendo non solo i gretini cambiano idea oggi su tutti i giornali c'è la conversione dei cinque stelle per quanto riguarda il ponte sullo stretto di messina quindi noi partiamo dal presupposto che solo i gretini non cambiano idea buongiorno invece abbiamo pure quelli che sono politicamente imbecilli cioè sotto i capelli niente che cambiano idea e cosa dice il buon cancellere siccome sparò la cazzata di fare il tunnel sottomarino e poi si scoprì che la sparò dopo una mega cera perché gli piace bene a cancellere il buon vino rosso e dopo il vino rosso cancellere il minchiatone che spara e sparò anche questa no ora per giustificarsi eh che eh comunque quella era una cazzata che cosa dice se mi sono inventato quella cazzata per rimettere al centro del dibattito politico la realizzazione del ponte sullo stretto di messina ah scusatemi siamo combinati in italia che un vice ministro per farsi prendere sul serio deve sparare minchiate ma perché non ti ritiri da dove sei venuto cancelleri e arriviamo anche alla cosa simpatica interviene l'onorevole raffa e dice noi abbiamo cambiato idea perché ormai dai sondaggi che ci sono la maggioranza degli italiani vuole il ponte sullo stretto di messina bravi ecco questo significa avere una coerenza unica cioè vado dove mi porta il vento non invece che assumo la posizione ben precisa e vado avanti fino in fondo no in base a dove va il vento io mi sposto e vabbè meno male che anche questa fase si sta chiudendo obiettivamente e per quello che poi sono le relazioni ci sono i tecnici che già l'hanno demolita ed è normale affermare in una situazione del genere che la commissione voluta dalla De Micheli ha partorito una relazione che non voglio dire di che carta igienica perché non voglio essere volgare però mi sento da sindaco di messina offeso l'ennesimo tentativo di mistificare prendere tempo questa è la verità una relazione che sotto il profilo tecnico già c'è chi ovviamente ha il le competenze e la smontata pezzo a pezzo e qui Dannebeffa non solo è stata tirata fuori dopo che si è approvato il recovery plan in modo tale da evitare comunque la questione di inserirla non inserirla all'interno del recovery plan ma il contenuto e le risultanze obiettivamente portano a una strategia evidenzia una strategia che è finalizzata a perdere a perdere ancora altro tempo quindi mi auguro faccio appello ai nostri parlamentari meridionali non continuate a farvi prendere per il culo per cortesia cerchiamo di ricondurre ormai definitivamente le questioni nell'ambito del binario giusto poi notizia notizia buongiorno notizia notizia guardate buongiorno buongiorno bicchiere d'acqua e un caffè una granitina piccolina va bene faccio mi faccio corrompere va bene forza cappe con panna arriva a questo punto ci vendiamo il cappello max dove pare sia a dieta io ancora devo iniziare ma la vuoi lui a dieta io intanto me la mangio va bene altra notizia e concludiamo sul giornale oggi c'è l'autocandidatura di nello musumeci alla presidenza della regione siciliana autocandidatura cioè ha cercato in questi giorni di ricattare gli alleati ha cercato e sta cercando di portare nuovamente in giunta ruggero razza ruggero razza che continua a rimanere a palazzo d'orleans d'abusivo ogni giorno lì che non si sa a che titolo ma la questione quale diventa che ha cercato di scuotere gli alleati no gli alleati lo hanno preso a pernacchie quindi ormai la conclusione qual è nello musumeci si autocandida alla presidenza della regione siciliana noi che facciamo ci autocandidiamo noi ci autocandidiamo a cacciarlo politicamente a calcio in culo via lui e i suoi compagni di merenda è così naturalmente cerchiamo di liberare la sicilia da questa mala razza politica a guardate qua che vuoi guardare ecco allora lo prendo così max qua eppure calda la brioche non è caldissima ma max ha messo queste regole io mi devo muovere non posso consumare ora venga mi prendere qua qua mentre mi muovo ti mangio la granita non avete idea il contrasto di questa panna con il caffè e la brioche calda 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 ecco qua state vedendo guardate ora vi faccio vedere la brioche calda 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 oh e allora ecco qua vedete così camminiamo se no poi tanino roccamo mi riprovera e ha ragione camminiamo però almeno grazie glielo dobbiamo dire com'è come si chiama il bar? da Samuel facciamo dire a lui naturalmente no? via il primo settembre poi da assaggiarla venite io sicuro è esquisita cammino certo Max se facessero la cosa la danza del canguro immagino mangiare la caneta e salta lo volete fare? per bruciare subito le calorie ah dice Max così mangi e bruci le calorie guardate vi faccio vedere il colpo finale il colpo finale e poi vi saluto guardate 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 questo è quando si esce l'ultimo pezzettino della grenita della brioche zuppata nella grenita proprio noi lo sappiamo guardate ecco questo è il rito dell'ultimo pezzo che è meraviglioso che uno lo prepara alla fine per gustarselo mmmm e poi rimane il misto caffè con panna e pezzettini di briola questo è un rito meraviglioso che vi consiglio di fare venisci buona giornata e ci vediamo domani mattina